Questo signore che adesso vedrete nel video ha creduto a Babbo Natale, solo che c'è un problema, a Babbo Natale ci puoi credere quando sei piccolino, non quando sei adulto. Noi a giugno del 2022 acquistiamo questa casa e ovviamente per fare questa operazione vendiamo casa nostra con un accordo con l'acquirente di lasciare l'immobile dopo un anno. Noi abbiamo acquistato questo immobile immaginando di poter utilizzare gli incentivi del super bonus e parte invece utilizzare gli incentivi tradizionali per la ristrutturazione. Quindi se non ci fosse? Non l'avremmo mai fatto. A novembre del 2022, quindi nello stesso anno, l'impresa ci convoca dicendo che la possibilità di monetizzare i crediti derivanti dallo sconto in fattura che ci avevano effettuato per le opere che fino a quel momento erano state realizzate, purtroppo non era più possibile perché le banche di fatto avevano... Come avete notato, il video non è completo, ne manca una parte. Stiamo parlando di una villa che sicuramente è più di 200 metri quadri. E che cosa pretendi? Tu hai venduto casa tua a 140 mila euro e pretendevi di fare la ristrutturazione, non ti hanno neanche finito i lavori perché non ti bastano i soldi. Dai miei punti di vista, con il super bonus quella casa arrivava a 500 mila. Oggi con dei prezzi normali, con 250, 280, la rifai perché altrimenti vai a comprarti una villa nuova, bisogna anche capire in quale zona sono questi signori. Però è quello che vi meritate. È come chi continua a lavorare col super bonus e non riesce a cambiare i crediti. Cazzo, ma se vedi che non c'è più la possibilità, fai altro. Lo fai perché ti fa comodo. Perché sai che ci sono grosse marginalità e continui a farlo. Ah, ricordando, da ottobre il verticale non esiste più, quindi si compenserà annata per annata. Perciò fate occhio a continuare a prendere i lavori del super bonus, perché solo i pazzi continuano a fare quei lavori lì. Grazie. Grazie. Grazie.